Raccontaci il gol Eh niente, un rimballo, mi è arrivata la palla sui piedi Ho visto un buon partito da fuori, ho provato il pallonetto, è riuscito, è bene così Seguendo la partita insomma abbiamo notato che tu hai alzato lo sguardo prima di calciare Sì, ho visto, era l'unica cosa che mi è venuta in mente e l'ho fatto subito, senza pensarci Ecco dopo l'infortunio finalmente si è visto il vero barlafante Sì, sì, ci sono stato fermo tre mesi, non filati però sono male Quindi ora spero di ricominciare il meglio possibile Quanto contano questi tre punti? La domanda è banale però insomma Oggi contro un campo basso che nel giro di ritorno ha disputato delle ottime partite non era facile? No, per niente, contano tantissimo perché è una partita fondamentale secondo me La salvezza e quindi volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti Federico Delgrosso nonostante gli acciacchi in campo quasi fino alla fine Una vittoria importante, un Giulianova che ha saputo lottare Mettere in difficoltà anche un campo basso che ha disputato un grande girone di ritorno Però i punti pesavano per il Giulianova oggi? Io credo che oggi abbiamo fatto una partita molto attenta, molto preparata secondo me Nel migliore dei modi, soprattutto nell'approccio Siamo stati molto aggressivi perché sapevamo che il campo basso è una squadra molto tecnica Soprattutto nella fase centrale del gioco quindi li abbiamo aggrediti E credo che abbiamo dimostrato di meritarla pienamente questa vittoria Oggi è il tuo 36esimo compleanno, tu è Cristiano, festeggiate 36 anni Cioè un compleanno migliore di così insomma non ci poteva essere La curva ti ha acclamato tra l'altro Io ringrazio pubblicamente i tifosi che dimostrano sempre una simpatia nei miei confronti da premiare Quindi li ringrazio pubblicamente, poi li ringrazierò uno a uno perché li conosco Sì, ci volevo essere perché credevo fortemente a una prestazione maiuscola della squadra Quindi volevo esserci anche se abbiamo avuto paura di rischiare Perché un attimino c'era un bel rischio Però è andata bene quindi sono contento Grazie Grazie